amici di tecroandroid.it benvenuti alla video recensione completa del mod h6000 plus detto anche air l'ex smartphone top della nuova azienda italiana mod azienda da poco arrivata sul mercato con dispositivi molto interessanti a prezzi concorrenziali andiamo subito a fare una veloce panoramica del dispositivo panoramica completa che trovate nell'unboxing realizzato qualche giorno fa dicevo panoramica android 4.2.2 processore mtk 6582 quad core da 1.3 gigahertz gpu mali 400 mp dispositivo dual sim con display da 5 pollici con risoluzione 854 per 480 pixel un giga di ram 4 gigabyte di storage interno fortunatamente spandibile con micro sd fino a 32 gigabyte dato che 4 gigabyte di storage interno considerando anche lo spazio occupato dal sistema operativo sono veramente pochi fotocamera principale da 13 megapixel con flash led autofocus fotocamera anteriore da 5 megapixel sensori di prossimità luminosità non led di stato batteria capiente da 2800 mAh ottimo l'utilizzo sono arriva da sera con ancora il 20 per cento disponibile con nostro uso intensivo dimensioni abbastanza contenute di 141 x 72 x 9,7 mm di spessore peso complessivo 175 grammi in più troviamo anche l'air shuffle sia la possibilità di gestire il dispositivo senza andare a a toccare direttamente il display ma iniziamo subito la nostra recensione e andiamo subito a dare un'occhiata al launcher del dispositivo launcher molto simile al alla touch with samsung sia per via delle icone sia e soprattutto per via del menu della tendine di notifica dove troviamo appunto sia nella parte nella prima parte nella prima pagina sia nella seconda toggles molto molto simili sia per stile sia per posizione a quelli della touch with visto che ci troviamo appunto qui andiamo a vedere quali sono questi toggles troviamo infatti il generale per la scusate il tema della prima wifi bluetooth gps connessione dati modalità aereo suono questo in questo caso le impostazioni generali silenzioso ora vibrazione è la quarta impostazione che è personalizzabile riguardo appunto l'ambiente esterno inoltre abbiamo la possibilità di modificare velocemente la luminosità dello schermo in questo caso è impostato automaticamente schermo purtroppo molto molto scadente infatti lo schermo non 65 pollici con la risoluzione già bassa di suo a un angolo di visione veramente molto molto limitato infatti non tanto da questo lato ma abbassando leggermente il dispositivo non so se è visibile dall'obiettivo della fotocamera abbassando il dispositivo si arriva a distorcere quasi completamente i colori vi mostro meglio quello che intento tramite la parete di colori andiamo velocemente a impostare la rotazione automatica come potete vedere se in questa situazione i colori sono abbastanza equilibrati dato che comunque un ips con una buona calibrazione dei colori dei bianchi piuttosto luminosi e dei neri abbastanza profondi andando ad inclinare leggermente il dispositivo andiamo incontro a una a una differenza di colore veramente esagerata non tanto come dicevo tenendo il dispositivo in verticale muovendosi destra e sinistra proprio andando verso il basso e verso l'alto veramente scadente lo schermo sicuramente il punto più negativo di un dispositivo che è tutt'altro invece che scadente sia per il prezzo concorrenziale a quanto è ventuto di 169.99 euro andiamo visto che ci siamo a vedere la riproduzione di un video in HD come potete vedere è presente sempre in sovraimpressione questa piccola finestrella anche queste stile touchwiz che con un semplice tap ci porta ad entrare nel in un rapido menu di applicazioni puntualmente le applicazioni personalizzabili infatti le applicazioni si posizionano a loro piacimento praticamente niente di personalizzabile e la barra stessa è posizionabile soltanto sul lato sinistro ma almeno è possibile muoverla infatti non può andare da quest'altro lato ma possiamo appunto portarla su e giù per il lato sinistro rimaniamo sempre in tema launcher andiamo a vedere quali sono le applicazioni preinstallate principali infatti a parte il classico telefono persone messaggi browser troviamo un'applicazione di backup e ripristino su scheda sd la musica la galleria il calendario le impostazioni l'orologio la calcolatrice l'email la radio il registratore vocale un file manager il navigatore gmail play store maps l'ho installata io una to do list una app per collegare velocemente il dispositivo col bluetooth documents to go la famosa suite office il famoso pacchetto office per appunto gestire file word ed excel applicazioni download torcia fotocamera google ricerca langout con l'icona purtroppo rimasta al vecchio talk le impostazioni google local la mogu player e video player movie studio sono tutti e tre lo stesso pacchetto di riproduttori audio video abbiamo not book channel not pad la ricerca vocale si tool kit e collegamento veloce a wifi come potete vedere abbiamo la classica distinzione fra applicazioni widget il collegamento diretto al play store widget appunto tradizionali della di ogni applicazione particolarmente interessante questo piccolino questo piccolo meteo in diretta 3d anche se non troppo bello e poi qualche altra qualche altra qualche altro widget in pieno stile touchwiz che comunque è sicuramente innegabilmente lo stile su cui si basa questo launcher passiamo adesso invece alla alla parte alla parte multimediale visto che abbiamo già visto lo schermo passiamo alla riproduzione vita riproduzione audio riproduzione audio col classico get lucky da funk come potete vedere l'audio non è eccessivamente potente ma è comunque molto molto pulito almeno da questo punto di vista non possiamo lamentarci audio quindi o decisamente buono come qualità un po debole di potenza sempre il riparto multimediale rimaniamo in tema della fotocamera fotocamera con alcune funzioni interessanti oltre infatti la cadiera abbiamo la possibilità dell'abbellimento veloce al volto la panoramica lo scatto con il sorriso infatti per una fotocamera individuo il sorriso effetto scatta la foto una in collegamento veloce alle nostre impostazioni preferite infine la possibilità di modificare alcuni parametri come la saturazione l'iso eccetera eccetera la galleria completa delle nostre foto in diverse condizioni di luminosità la trovate nella nella pagina facebook nell'articolo completo che trovate tutto in descrizione passiamo infine a parlare del browser browser in questo caso stock quindi ricarichiamo la pagina in da vergi visto che ci troviamo qui in modalità desktop viene presa dal riprovare carica della pagina di meno soltanto niente da fare si rifiuta di mostrarci il sito in modalità desktop potete comunque vedere il browser sicuramente lo conoscete il browser stock android la solita velocità e fluidità che lo caratterizza ma nessuna impostazione importante o principale o esclusiva tutto quello che abbiamo già visto e rivisto il problema principale forse di mod è questa bassa personalizzazione dei suoi dispositivi e per personalizzazione andiamo a vedere appunto le air gesture che sono state impostate e inserite in questo dispositivo e le gesture attivabili dall'apposita sezione qui nel menu e attiviamo e le attiviamo sia sulla galleria che sulla musica ma che sulla musica no sulla fotocamera e sul lounger sul lounger basta infatti passare la mano davanti i sensori di prossimità posti qui in alto per muoversi all'interno delle schede purtroppo il movimento è univoco sia si va soltanto verso destra nonostante il movimento sia verso sinistra quindi un po limitato il l'air gesture l'air gesture come già detto disponibile anche nella galleria infatti è possibile muoversi all'interno della galleria e scattare come avete visto prendiamo un oggetto per scattare la fotografia ed è possibile scattare la fotografia semplicemente passando sopra la mano quindi molto carina questa funzionalità andiamo rimaniamo sempre nelle impostazioni diamo un'occhiata a quello che ci offre il dispositivo infatti abbiamo la gestione delle sim possibile impostare il seno del sim abbiamo la possibilità di impostare il ascolatemi non sono presenti sim in questo momento quindi non è possibile aprirla comunque c'è la possibilità di impostare una sim piuttosto che un'altra in determinate situazioni come predefinite possiamo utilizzare una sim per chiamare un'altra per inviare messaggi per connetterci alla rete dati tutto modificabile velocemente da questa impostazione qui in alto wifi bluetooth come ho visto il gesture sensing l'utilizzo dei dati e altre informazioni riguardo le connettività il device abbiamo inoltre questa seconda scheda profilo audio display display con la possibilità di attivare e disattivare lo special windows di calibrare il sensore di luminosità e di g sensor abbiamo l'autosione automatica luminosità di dream abbiamo poi la memoria memoria eccessivamente scarsa necessario infatti installare una scheda sd perchè 4 gb sono veramente troppo limitati abbiamo poi la batteria batteria come già detto molto capiente che ci permette di arrivare fino a tarda serata con ancora il 20% compreso le applicazioni che non abbiamo bisogno di guardare abbiamo poi gli account la possibilità di aggiungere quindi gli account accesso alla posizione sicurezza lingua emissione backup e ripristino infine morto abbiamo data ora la possibilità di impostare e programmare quindi l'accensione e lo spegnimento dello smartphone grazie al punto al processore mediatek abbiamo la classica accessibilità le opzioni sviluppatori già sbloccate e le informazioni sul telefono che già conosciamo e che avete visto nella galleria il dispositivo quindi tutto sommato per il prezzo a cui è venduto è veramente conveniente come ripeto il difetto principale è lo schermo non tanto per la risoluzione quando appunto per l'angolo di visuale che tende a diventare disastroso aumentando appunto la applicando appunto di più il dispositivo unica quindi la pecca da fare a mod è proprio questa pecca purtroppo eccessivamente grande che non mi permette di consigliare pienamente il dispositivo nonostante il prezzo andiamo adesso a testare la fruizione di videogiochi non è stato possibile installare il classico gioco che utilizziamo per la recensione sia in B2K14 a causa di un problema legato alla memoria quindi non alla potenza ma alla memoria del dispositivo che essendo di soli 4GB non permette di installare un gioco così esoso di memoria ripieghiamo su Angry Birds, gioco che comunque richiede una certa potenza e comunque rientra nei nostri quantitativi massimi di memoria tempo di caricamento più o meno nella norma non richiede troppo tempo andiamo a provare un livello random ma sembra comunque tutto molto ben riprodotto come vedrete dai test benchmark che pubblicheremo nella galleria fotografica il dispositivo si piazza praticamente allo stesso livello del Nexus 4 dispositivo non troppo recente ma comunque ottimo per l'utilizzo medio soprattutto considerando il costo di 169,99€ a cui appunto è consigliata la vendita del mod H6000 Plus Air diciamo che nel reparto multimediale lo schermo fa un buon lavoro soprattutto perché comunque giocando viene tenuto sempre in posizione retta quindi i colori sono comunque di buona qualità e permettono di giocare senza troppi problemi anche perché il processore e la GPU sono decisamente potenti passiamo quindi a fare un veloce riassunto con i pro e con i contro del punto del dispositivo sicuramente pro il prezzo di 169,99€ di cui modo consiglia la vendita carina la personalizzazione anche se troppo simile alla TouchWiz le impostazioni della fotocamera sono poche ma alcune interessanti come la foto effettuata tramite il sorriso e l'abbellimento del volto il browser purtroppo poche personalizzazioni abbiamo infatti il browser stock, il client email stock il file manager stock troppe applicazioni e personalizzazioni standard se così vogliamo chiamarle come ho già detto più volte eccessivamente negativo lo schermo a causa dell'angolo di visuale limitato praticamente a essere appunto perpendicolo dobbiamo forza guardare perpendicolarmente lo schermo e la memoria forse eccessivamente piccola potevano arrivare almeno 8 GB ma comunque grazie alla microSD riusciamo a coprire un utilizzo medio buona la fotocamera a 13 megapixel buona anche quella anteriore a 5 megapixel sicuramente un plato va fatto alla batteria da 2800 mAh che ci permette di arrivare fino a sera il peso non è proprio nella norma 175 grammi non sono pochi ma in ogni caso è ben equilibrato e non dà eccessivamente fastidio quindi non sento di consigliarvi immediatamente questo smartphone principalmente per una questione legata allo schermo per tutto il resto è veramente molto valido e vi consigliamo di dare almeno un'occhiata sul sito mod e sui rimeditori mod dove vi ripeto è disponibile 169,99 euro vi ricordo che in descrizione trovate l'articolo completo con altre informazioni e test da qui i nemici del candore vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima video recensione grazie a tutti